Assessore Veri, allora finalmente un po' di chiarezza, l'Abruzzo, come tante altre regioni del nostro paese, è stato inserito nella zona gialla per quanto riguarda l'emergenza e la pandemia. I dati migliorati degli ultimi giorni hanno fatto sì alla fine che l'Abruzzo finisse in zona gialla? Oppure ci sono anche altre motivazioni? Allora, innanzitutto quelli sono dati che vanno a scadenza 25 ottobre. Adesso noi saremo valutati dal 25 ottobre al 3 novembre, per cui sono valutazioni dei giorni precedenti. La nuova valutazione avverrà adesso dal 25 ottobre al 3 novembre. Sono valutazioni importanti perché vanno a valutare anche l'indice di trasmessibilità, quindi tutto il percorso del tracciamento e dei contagi che ci sono nella nostra regione. E' importante in questo momento anche analizzare il discorso dei posti letto nella nostra regione, che sono, come ho sempre detto, sufficienti, disponibili in base alla variazione. Apprendiamo che sono diminuiti i ricoveri, anche se solo di due unità, nelle terapie intensive. C'è ancora una maggiore attenzione perché sono tanti i casi invece poco sintomatici e addirittura sintomatici. Quindi nel momento del tracciamento è importante andare ad aggredire questi numeri, queste situazioni, perché come voi sapete l'asintomatico può tranquillamente contagiare senza rendersene conto. Questo purtroppo è quello che avviene quando c'è maggiore relazione e quindi benvengano queste norme, anche se non così complesse come nelle zone rosse, il rispetto di queste norme, di evitare tutto ciò che è un momento interattivo, fuori da quel minimo indispensabile che può essere contesto lavorativo, nel contesto dell'emergenza, bisogna andare avanti attraverso questo, adeguarsi a queste norme. Ora, Assessore, l'obiettivo è far sì che l'Abruzzo resti sotto questo punto di vista una regione virtuosa? L'Abruzzo lo è sempre stata una regione virtuosa, nonostante le difficoltà. Io parlo del periodo della pandemia, abbiamo, come ho sempre riferito, saputo gestire la prima fase, è importante, stiamo gestendo anche la seconda fase. Per rimanere in questa fascia ci vuole ugualmente questa attenzione e soprattutto il lavoro che io sto portando avanti di un monitoraggio costante.